Crypto, capital gain e finanza decentralizzata. In questi giorni, in questi mesi, evidentemente si è alla ricerca, perlomeno sulla mia scrivania, del paese più idoneo per realizzare una plusvalenza, un capital gain dall'inazione cripto. Si cominciano a intravedere, facciamo tutti gli scongiuri del caso, le possibilità di cash out importanti e allora i clienti mi chiedono, in termini di relocation, in quale potrebbe essere un paese importante per evitare, un paese serio, quindi stabile economicamente e politicamente, per evitare di pagare le tasse sulle cripto. Ebbene, uno dei paesi che suggerisco sempre più spesso, non è un consiglio professionale, va sempre necessario una case by case analysis, è il Belgio. Il Belgio, a determinate condizioni, permette ai trader non professionisti di non pagare le tasse sulle plus da cripto e su tutto quello che è finanza decentralizzata connessa. Quindi direi che è uno dei paesi da analizzare con tutta l'attenzione del caso, se si vuole sfuggire alle grinfie del fisco italiano.